Bene a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti con il terzo video tutorial per quanto riguarda lo sblocco delle Dark Ops nella modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4. Vi ricordo, come è stato per i video precedenti, che sotto in descrizione potete trovare tutti i link specifici di ogni bigliettino da visita. Mano a mano che aggiungerò il video sul canale, aggiornerò anche i link in descrizione. Quindi ragazzi, come detto, in questo video ci andrò ancora del terzo bigliettino da visita che ho sbloccato, il bigliettino chiamato Ritmo Zombie. Da come potete leggere, per sbloccare questo bigliettino si dovrà attivare la jukebox alla tavola calda. Quindi ragazzi, dove si trova questo jukebox? Dove si trova questa tavola calda? Nello luogo esatto si trova qui, vicino al centro comunicazione. Dove ho messo il punto ragazzi una volta buttati, potrete notare la presenza di due edifici. Voi dovrete andare al dinner. Dovrete entrare da questa porta e subito a sinistra troverete il jukebox. Dovrete con lui interagire comendo quadrato e lo jukebox metterà una canzone. E così facendo, una volta finita la partita, il gioco vi sbloccherà il Dark Ops. Vi ricordo ragazzi, se state facendo questa missione con dei vostri amici dovrete ripeterla ogni volta. Non basterà far interagire il secondo e il terzo nel jukebox perché non la conterà. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, lasciate tantissimi like con un commento. Fatemi sapere quanti bigliettini da visita vi rimangono. Condividete il video per aiutare i vostri amici. Iscrivetevi al canale per non perdere tanti altri video tutorial. Come sempre ragazzi, vi ringrazio alla visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!